giovedì 17 settembre 2020 bentornati su cipre tv a quanto pare continua la serie dei world complicati da capire ma facili da fare oggi abbiamo addirittura dei round nidificati cosa vuol dire sul dire sono uno dentro l'altro e infatti tre round for time con 500 metri run e poi tre round for time di cinque double dumbbell cluster sette pull up e nove double dumbbell step over dopodiché uno ricomincia il round dei 500 metri di corsa e così fino alla fine i pesi le scalature e naturalmente anche il vuoto perché sennò spiegato così probabilmente non si capisce molto sono come sempre sulla grafica qui di fianco per fortuna siamo a giovedì e quindi non mi resta chiedervi appuntamento per domani venerdì per l'ultimo world della settimana